E' stata proprio l'attrice protagonista dell'allieva, Alessandra Mastronardi, ad annunciare la fine delle riprese della seconda stagione con un post su Instagram. Le riprese erano iniziate a novembre e, fino ad adesso, abbiamo visto cast e staff a girarsi nelle zone di Roma ed intorni. Ben 100 giorni di riprese, come scrive Alessandra Mastronardi sul suo profilo ufficiale. Una seconda stagione destinata ad avere lo stesso successo della seguitissima prima. Ma quando andrà in onda la seconda stagione? Si prepara a tornare sui nostri televisori la seconda stagione dell'allieva, la fiction basata sui romanzi della scrittrice Alessia Gazzola. Ma quando andrà in onda la serie con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale? Ancora non c'è una data esatta e ufficiale, ma la messa in onda pare essere stata programmata per l'autunno di quest'anno. Nello specifico, si parla del mese di ottobre ma non si esclude quello di settembre, sempre su Rai 1. Se il video vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi. Se non volete perdere nemmeno un video ricordatevi di attivare le notifiche tramite l'apposita campanella.